Benvenuti in questo spazio dedicato alla conoscenza dei quartieri di Cremona. Oggi ci troviamo in particolare a San Felice e San Savino e siamo in compagnia del Presidente che ci accompagnerà in questo viaggio, in questo percorso all'interno di questa zona che è una delle più periferiche, Presidente, questa. Sì, la zona è la più periferica del quartiere. Là dietro è il posto dove è stata tagliata la pianta che è un fatto che è andato alle cronache un paio di mesi fa. Quello che ha destato un po' di scalpore, perché qua è una zona in cui comunque c'è del verde. C'è molto verde. Ma qua era una pianta secolare. Era un pioppo secolare bellissimo, è stato tagliato, ha suscitato clamore. Il Comune si è impegnato a fare una ripiantumazione extra, oltre a quella che fa parte della riqualificazione del quartiere. Questo infatti è un quartiere che abbina zone verdi a zone abitate. Sì, questa è una delle zone di più recente fabbricazione. Abbiamo la parte vecchia del quartiere, poi c'è la parte popolare, delle case popolari e queste sono le ultime costruzioni fatte. Nelle ultime costruzioni in particolare ci sono persone che sono di età media e quindi sono abbastanza giovani. Quindi ecco, quella del quartiere è un'età media in generale e quindi ci sono le varie generazioni. Media o alta, diciamo. Diciamo che siamo piuttosto fortunati, non ci lamentiamo. Non ci sono situazioni particolarmente di alta pericolosità o comunque episodi di bollismi o vandalismi. È un quartiere dove c'è anche un riferimento dal punto di vista dello sport, c'è infatti anche un campo sportivo. C'è un campo sportivo, sì, che viene adesso, si spera, hanno già cominciato a fare le prime partitelle e attaccato al campo c'è anche la palestra che è adesso in fase di riqualificazione. Un riferimento proprio per quanto riguarda le attività sportive che pian piano stanno riprendendo, soprattutto quelle all'aperto. Propratamente. Certo, perché comunque c'è bisogno, c'è necessità anche di unire all'attività lavorativa anche quella, la pratica sportiva. anche se qui c'è la possibilità di fare passeggiate. Esatto, diciamo che è una zona molto sfruttata tra il verde comunque presente in quartiere e la ciclabile che è su via Postumia, che passa via Postumia, che va fino a Pieve, passa per Maragnino, Pieve e va anche fino in città. Quindi comunque, insomma, soprattutto quella pista ciclabile lì è molto utilizzata. Noi abbiamo magari l'ostacolo che c'è qua può essere il cavalcavia, che è magari soprattutto per le persone più anziane quando vanno in bicicletta così è di difficile l'utilizzo. Però comunque ci sono tantissime famiglie e persone che usano le ciclabili per passeggiate o addirittura per andare comunque anche in città. Fortunatamente fa un giro interno, quindi qualcuno magari non la usa, però fa un giro interno, quindi è lontano dalle macchine. Almeno è la parte che poi va in città, comunque costesa la strada e non è proprio attaccata alla strada. C'è un fossato, quindi non... e delle barriere. San Felice e San Savino, perché San Savino è un'altra zona ancora. Sì, San Felice e San Savino, comunque fa parte dello stesso quartiere. Comunque sono attaccati praticamente. Sì, a un chilometro e mezzo di distanza. Però rientrano nella stessa... Rientra nel stesso quartiere, infatti il quartiere 14, San Felice e San Savino. È molto tranquillo, diciamo una frazzoncina, uno dei problemi che c'è stato negli ultimi anni è che dopo la costruzione del cavalcavia hanno dovuto chiudere la via, via Molino mi sembra, e quindi non hanno più lo sbocco direttamente su via Postumia. Quindi o vanno su dalla parte di Gadesco oppure vanno, devono venire per forza San Felice e diciamo non hanno più lo sbocco diretto. Adesso so che ultimamente il Comune si è impegnato anche a costruire due o tre piazzole sulla strada e quindi speriamo che le facciano. Ce ne sono già alcune e ne faranno anche delle altre, per arrivare al famoso raddoppio della via. Ora ci spostiamo, Presidente, in un'altra zona perché abbiamo parlato di lavori e questi interessano sia la scuola sia la palestra, perché nel quartiere c'è appunto un polo scolastico. Questo dunque è un luogo in cui stanno facendo dei lavori molto importanti che riguardano le scuole. Sì, è in ristrutturazione della scuola, la scuola vecchia è stata abbattuta e è nata questa che è molto più moderna. È composta a quattro arcate, ci sono dei giardini anche sul retro e dietro la scuola c'è la palestra, la nostra palestra che è anche in fase di ristrutturazione, anche quella, hanno fatto comunque tutti i sistemi antisismici e rifaranno comunque anche tutti gli interni. La scuola invece è stata rifatta da zero. Un'operazione importante dal punto di vista dei lavori, anche perché sembra lontano l'inizio del nuovo anno, però in realtà passano in fretta i mesi estivi. Sì, 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 comunque diciamo che l'apertura è prevista per quest'anno. A settembre sicuramente i lavori dovrebbero aver firmato prima, comunque è assicurato che parta dal nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda la cura del quartiere, vediamo che comunque le zone con l'erba, alcune sono ben curate, come quelle vicino a noi, altre magari avrebbero bisogno di qualche manutenzione in più. Guarda, sinceramente sono stati poco fa, sono stati fatti i lavori di manutenzione del verde e diciamo che dove doveva essere tagliata l'erba è stata tagliata, poi sicuramente magari non sono stati perfetti al 100% o per tutto, però diciamo che è un quartiere che viene abbastanza seguito. Per quanto riguarda i collegamenti con il centro città, visto che questa è una zona abbastanza periferica, ci sono comunque dei servizi? Sì, sì, comunque c'è l'autobus, sicuramente un quartiere abbastanza servito e poi come dicevamo c'è la ciclabile che comunque rende l'unione con la città molto semplice. Parte il cavalcavia, che è abbastanza faticoso da fare, ma abbiamo in più anche questa ciclabile che è molto usata. E anche a livello di servizi, per quanto riguarda le farmacie, gli alimentari? L'alimentare c'è, la farmacia no, abbiamo una qua vicino a Maragnino, non per tutti purtroppo è comoda, però comunque diciamo che è la più vicina. Ci spostiamo in un altro punto ancora del quartiere, presidente, andiamo. Un altro punto ancora dove si stanno facendo dei lavori. Questa è una piazzetta, presidente, che cosa si sta recuperando qui? Prima qua c'era una vecchia cascina, è stata demolita e sta nascendo questo complesso. Ci sono sia degli appartamenti, sia delle attività che possono diventare commerciali. Quindi insomma, adesso i lavori, come si vede, sono già abbastanza avanti. Manca l'ultima arcata, che credo sia là dietro, dove stanno costruendo adesso. Sembra che finalmente abbiamo anche una piazzetta, diciamo, cosa che a San Felice mancava. E siamo vicini all'incrocio con la Statale? Sì, è l'incrocio con la Statale, che è lì nella zona industriale, e è praticamente il nostro limite di quartiere. Il nostro confine arriva in Via Manto, quindi si sviluppa poi tra Via Manto e Via Postumia, andando fino verso il territorio di San Salino. Adesso si vedrà se costruiranno questo pollo logistico, ma quando vedranno l'inizio dei lavori ci crederanno. Vediamo un po' se lo fanno. Penso di sì. Erano dei terreni edificabili in cui nascerà questo porto, che dovrebbe tra l'altro seguire l'autostrada. E molto probabilmente la rotonda sarà ingrandita per consentire appunto gli accessi. Grazie Presidente, raggiungiamo un altro punto ancora del quartiere. Grazie a voi. Presidente, concludiamo il nostro percorso all'interno del quartiere in un punto significativo per diversi motivi, e spiegando anche che ci sono diverse iniziative. Ci sono state anche diverse iniziative che hanno caratterizzato la vita e la quotidianità del Paese. Quali sono state queste iniziative? Allora, c'è stato l'est logo, che è stato un concorso dove sono stati inviati dai ragazzi sotto i vent'anni dei diversi loghi e sono stati valutati e uno sarà selezionato per diventare il logo dell'ufficiale del quartiere. Poi c'è stata Rifiutiamo, che è una giornata verde in cui abbiamo fatto raccolta rifiuti e organizzata sempre anche in collaborazione con la Zolla, il gruppo dei giovani della Zolla, del comitato di quartiere, la parrocchia e ovviamente il comune, insomma, ci siamo un po' dentro per organizzare degli incontri o delle giornate che possono essere passate insieme ai residenti. Noi avevamo già fatto un anno fa un incontro sui cambiamenti climatici nella sede dell'oratorio. Una cosa importante da dire è che in via Salvador Allende 1 nascerà un punto di incontro dove lavoreranno le comuni, dove lavoreranno comunque in alcuni orari ci sarà la presenza del titolo di quartiere e quindi servirà come appoggio per l'intera comunità. Grazie Presidente perché questo era l'ultimo punto, ma forse quello più importante per quanto riguarda il quartiere San Felice e San Savino. Ringraziamo il Presidente per averci accompagnato. Grazie a voi. E grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.